Praticamente appena laureata, dopo qualche mese di insegnamento, che comunque non era la mia ambizione maggiore, ho partecipato a un concorso per i primissimi computer in Italia. Ce n'erano soltanto tre. I primi computer Olivetti, che ha visto il film di Olivetti, ha visto anche quella specie di mostro sul quale mi sono trovata a lavorare. Nonostante che fossi donna, sono arrivata prima su una buona serie di maschi e ho trovato anche un'azienda che stranamente ha accettato il fatto di prendere la prima arrivata anche se era di sesso femminile. Mi sono fatta abbastanza onore, anzi sicuramente mi hanno molto apprezzata ed è stata una soddisfazione che comunque è stata sempre tenuta sotto controllo da parte dei miei datori di lavoro, cioè se si andava in chiesa, se quando mi sono sposata, se ero andata a fare il corso dal parroco e queste cose qui. Praticamente all'epoca se non avessi fatto questa scelta di sposarmi in chiesa, avessi voluto per esempio sposarmi solo in comune, certamente non mi avrebbero tenuta, credo. Sì, praticamente sono stata assunta in un'azienda che comunque ha tenuto soprattutto conto della mia vita privata, oltre che del fatto che fosse arrivata prima ad una selezione, diciamo. e questo credo che il dire che non avrei fatto figli sicuramente non sarebbe stato gradito e non avrei avuto la posizione che ho avuto.